Oggi abbiamo l'unboxing del contatore Geiger 01M' della Soex, un contatore Geiger di produzione russa. Sul rete della scatola possiamo vedere i dettagli del prodotto nelle varie lingue. All'interno della scatola, molto ben rifinita, troviamo il contatore Geiger e un libretto di istruzioni in lingua russa. Il contatore Geiger funziona con due pile AAA che possono essere anche ricaricate tramite una porta USB. Per questo unboxing è tutto, alla prossima, ciao a tutti! Grazie a tutti!